Il 4 maggio finisce il 5 giugno con la Civica Jazz Band che dirigo io e poi questi concerti di musica e jazz si alternano a Brecchi in Musica e sono gli studenti della Civica Scuola di Musica Accademia Internazionale. Piazza Mercanti è una delle più belle piazze milanesi dove noi da 13 anni facciamo questa manifestazione, si chiama Brecchi in Jazz appunto perché si svolge dalle 13 alle 14 ed è praticamente un saggio all'aperto insomma per evitare i saggi che si fanno di solito nelle scuole solo per i parenti, quindi è una grande esperienza anche per gli studenti e naturalmente per i docenti che preparano i gruppi. Oggi ci sono i sassofonisti e il direttore è Giulio Visibelli. Beh innanzitutto è una buona occasione per passare il Brecchi, quindi la pausa, pranzo in buona compagnia e poi perché date modo anche agli studenti di questa scuola italianese di esibirsi di fronte a un pubblico. È una specie di saggio pubblico, quindi puoi immaginare le esperienze che si fanno questi ragazzi, è straordinaria ovviamente, tutti i suoi rifugni con loro, è fondamentale per la crescita. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!